Eccoci qui in Liberia Portalba per il consueto appuntamento con Vediamoci in Liberia Oggi abbiamo avuto la fortuna di avere ospite Ciro De Novellis che ha accettato il nostro invito Arriva in Liberia con questa monografia su Pulcinella Pullecenella, l'archetipo del teatro Allora innanzitutto la prima domanda per De Novellis che ha fatto una accurata ricerca perché vedo anche il libro ricco di illustrazioni, iconografie che partono un po' dall'antropologia del personaggio Ecco, in che cosa si diversifica questo libro su Pulcinella da tanti altri libri che sono stati pubblicati sull'argomento? Certo Diciamo, se questo personaggio ha acquisito in ambito europeo un'autonomia di coscienza della cultura occidentale allora valeva la pena almeno fare un'analisi di questi presupposti di questa storia bellissima che è quella di Pulcinella ma soprattutto pensare un attimino alle origini della maschera e quando parliamo dell'origine della maschera ci dobbiamo poi per forza addentrare in quelle che possono essere le origini del teatro stesso La maschera poi nel tempo ha acquisito valore e importanza sia per gli artisti di tutto il mondo che mi hanno parlato sia per quanti ancora oggi ne parlano voglio fare esempi ci sono poeti illustri, magnifici poeti anche pure un poeta napoletano ad esempio recentemente ha pubblicato un libro, Pulcinella stanco Ariane D'Ambrosio, un poeta meraviglioso che pure si è interessato di Pulcinella e continuano ancora cioè si può nominare quello che impropriamente secondo me viene chiamato il museo di Pulcinella il museo di Acerra perché è un centro propulsivo sempre di nuove iniziative un centro dove si forgiano nuovi artisti nuovi interpreti nuove vedute, nuove letture e poi soprattutto poi non è che si occupa solo di Pulcinella ma qualche cosa che abbraccia tutto lo scibile della cultura napoletana ma detto questo ripensando diciamo andando a ritroso tutti questi elementi possono essere poi racchiusi in un momento che io definisco un momento storico ben particolare che va ad esempio dall'inchiesta di una nota giornalista che si chiama Titti Marrone che fece nel 1910 una bellissima inchiesta a cui parteciparono moltissimi artisti internazionali e poi dall'altro canto diciamo tutto un sapere semiologico filosofico sono lui Lucio Amelio Lucio Amelio è stato un grande gallerista un grande gallerista che però ha saputo pure piscerare diciamo l'aspetto psicologico no? demo psicologico di questa maschera di Pulcinella io immagino immagino esserci agli albori della presenza umana qualcuno che rappresentasse il bene che mancava rivolgendosi alle divinità in qualche modo in qualche modo lui subiva una catarsi per rappresentare la divinità quello che era la sua necessità di vita in questo trasporto in qualche modo lui si faceva rappresentante di una comunità e in questo senso io dico che magari quando è stato per la prima volta imitato questo sacerdote e lì già si è avuto il primo momento il primo contatto con un attore vogliamo definire così le origini ecco abbiamo dato un archè un'origine all'essere attore diciamo poi da qui si può arrivare all'interpretazione della maschera che si bati non viene dalla dalla commedia dell'arte né dalle atellane ma secondo me da un mondo ancora primitivo infatti ci sono rappresentazioni delle maschere già nei tempi degli assiro babilonesi oltre al fatto che poi noi abbiamo trovato abbiamo trovato queste queste verità pure nei paesi che africani ad esempio visto quale affrontare se ne andiamo a vedere le maschere di totem africani in effetti avevano la stessa valenza avevano lo stesso significato che non era poi quello della paura come vogliono far intendere diciamo certi lettori togati diciamo così della della divinità ma ecco per esempio Puccinella è rappresentato vedo che infatti lei ha riportato qua nelle prime pagine una rappresentazione della maschera in Francia in che maniera ha influenzato o la Francia ha influenzato Puccinelli no sicuramente sicuramente c'è stato quasi una contemporaneità nel senso che in Francia e come in Italia è arrivata è arrivata prima ancora che la maschera di Puccinella qualche cosa che gli doveva somigliare c'è una lunga c'è una lunghissima tradizione quella che si chiama i capitani a cui appartengono qui appartengono pure Metamoros appartengono pure Scaramouche e quindi voglio dire si parte da questi elementi per arrivare poi effettivamente ai personaggi che hanno interpretato poi Puccinella fino ad essere stati acquisiti da morire da tanti voglio dire da ammaturghi e da tanti stranieri niente quindi è un libro che certamente noi consigliamo per appunto una ricerca un po' più approfondita che va al di là di quella che è la maschera a volte triste è la maschera del filosofo napoletano quindi questo personaggio che in realtà un po' piange sui le disgrazie dei napoletani poi penso che almeno anche secondo una sua interpretazione è una maniera di risorgere e di reagire alla società negativa certo è stato rappresentato appunto come ho detto all'inizio quale archetipo di un costrutto archetipo di una ho detto metafora dell'autonomia di coscienza e questo altro che il riscatto viene a essere un emblema importante e positivo per la napoletanità io ringrazio De Novellis ringrazio quanti hanno voluto seguirci e come al sogno ci vediamo la prossima volta a Grazie a tutti